Lo scorso anno quasi un nuovo richiedente l'asilo su tre proveniva dall'Eritrea. 7.000 persone che vanno ad aggiungersi a quelle arrivate negli ultimi anni. Una comunità che si fa sempre più numerosa e che ha bisogno di potersi integrare al meglio per poter rifarsi una vita dopo la fuga dalla terribile dittatura militare del proprio paese. Sentiamo Lidia De Bernatti. È un viaggio durato due anni quello che nel 2008 ha portato in Svizzera Jemane Johannes, fuggito dall'Eritrea della dittatura militare, attraversato il Sahara e passato un anno in un carcere libico prima di salire su un gommone e raggiungere le coste italiane e poi la Svizzera, come migliaia di suoi connazionali che non si lasciano scoraggiare dai rischi del viaggio. Chi fugge sa quali sono i pericoli, il deserto, la Libia, la traversata del Mediterraneo, ma non abbiamo scelta, dobbiamo lasciare l'Eritrea dove si può essere imprigionati senza motivo per 4 o 5 anni venire torturati, dove non ci sono né leggi né libertà. Poi l'arrivo in Svizzera e tutte le difficoltà legate alla lingua e all'integrazione. Ora Jemane vive a Winterthur, è sposato con un'Eritrea e ha un figlio di 18 mesi. È apprendista idraulico. Un successo, viste le difficoltà che queste persone devono affrontare. Gli eritrei vogliono lavorare, ma senza sapere il tedesco e senza una formazione è difficile trovare un posto. Bisogna aiutare queste persone affinché possano entrare il più velocemente possibile nel mondo del lavoro. E allora, per aiutare i suoi connazionali, Jemane partecipa ad un progetto pilota che sta formando dei cosiddetti costruttori di ponti tra la società svizzera e la comunità eritrea, con il sostegno di un'associazione non profit. Dovranno accompagnare e sostenere i propri connazionali nella soluzione di problemi legati all'integrazione, al lavoro, alla lingua, alla scuola, alla vita quotidiana, per capire come funzionano le cose in Svizzera. Quello che accomuna tutti è la speranza per il futuro, come ci racconta Jemane. Spero di poter concludere il mio apprendistato e continuare a lavorare e anche che mia moglie possa imparare il tedesco e fare una formazione. Per dare un futuro migliore al nostro figlio, ma la strada è ancora lunga.